Aumentano scippi, furti in auto e nei negozi e reati informatici ma diminuiscono rapine e furti in casa. Questo è il termometro della sicurezza in città secondo i dati forniti oggi dalla questora di Prato nel giorno del congetto del questore Filippo Cerulo che lascia il servizio dopo 5 anni in città e 45 in polizia. Tra pochi giorni è a riposo, che città lascia rispetto a quella che ha trovato oltre 5 anni fa? Io lascio una città con delle persone di Prato che sono dei grandi lavoratori, quindi sicuramente Prato si riprenderà. Di questo qua ne sono certo e avrò le prove fra pochi anni. Facendo i salti mortali a causa di un organico ridotto all'osso, la polizia riesce a mettere in campo 12 volanti al giorno, pattuglie appiedate e l'ausilio del reparto anticrimine di Firenze per un totale di un centinaio di poliziotti sul territorio. Nell'arco delle 24 ore per il prossimo anno l'obiettivo è potenziare il posto di polizia a Prato Centro e il presidio in ospedale. Mi auguro che anche il nuovo questore approfitti di questa situazione per investire in prevenzione. Con la prevenzione noi possiamo veramente vincere, è vincente la prevenzione e possiamo veramente fare bene.